Elezioni provinciali, la corsa ormai entrata nel vivo. Dopo la conferma sulla candidatura dell'esponente di Fratelli d'Italia e sindaco di Rosazza, Francesca del Mastro, arriva la quasi certezza di quello che per anni è stato in tutti gli incontri dei sindaci il suo antagonista per eccellenza. Durante i due mandati da presidente di Emanuele Ramella Pralungo, infatti, le critiche, nemmeno troppo velate, arrivavano sempre dal fronte dei del Mastro. Ora la sfida, anche piuttosto avvincente, si ripropone. Perché se è vero che la nomina politica della del Mastrina è forte della coalizione con i due voti certi di Bielle e Cossato, Emanuele Ramella Pralungo corre senza schieramenti, così come ha sempre fatto. Sto ragionando, ha affermato, con alcuni amministratori di ogni parte, di ripresentarmi, perché sono approdato qui quando tutti la davano per spacciata, con un dissesto finanziario di 12 milioni di euro. Impossibile dimenticare che al primo consiglio i militanti di Fratelli d'Italia mi avevano accolto con una bara che, secondo loro, doveva sancire la fine dell'ente caduto in disgrazia. Tra l'altro, grazie al sempreverde Roberto Simonetti, della stessa coalizione, che nel 2012 ha preferito il posto in Parlamento. Assumersi l'onere di guidare la provincia non può e non deve essere una spartizione politica. Io credo in questa istituzione, l'ho dimostrato ampiamente, facendo risalire la china. Quando non venivano più garantiti nemmeno i servizi essenziali su riscaldamento delle scuole e viabilità. Ora abbiamo ricominciato lentamente a programmare. Io vorrei continuare a lavorare. Rita De Lima, segretaria del Partito Democratico, ribadisce l'appoggio evidentemente del centro-sinistra per Ramella e si complimenta sia per il lavoro fatto in questi anni a beneficio del territorio, ma anche per la scelta di non schierarsi né da una parte né dall'altra.